Bene amici, dopo aver smontato mezza macchina per poter montare il Frank anteriore elettroattuato e dopo aver smontato mezza macchina per montare i fari posteriori, questa mattina smontiamo mezza macchina all'interno per poter montare un oggetto che su Model S e Model X ora viene dato di serie, ovvero la possibilità di ruotare il paddone verso di noi o verso il passeggero e anche di inclinarlo leggermente in su o in giù, ora seguitemi in questo bel video e andiamo a vedere un po' di cosa si tratta questo bel kit della Hand Show. Bene veniamo all'unboxing di questo pacchetto che ho ricevuto proprio ieri sera, la confezione si presenta in una scatola anche di buona fattura tra le altre cose, al cui interno troviamo una simpatica letterina di ringraziamento dove poi vi offrono un 10% di sconto sul prossimo acquisto, ma se li fate tramite il mio codice avrete un 15% di sconto per cui da questo punto di vista se volete comprare lo stesso oggetto utilizzatelo pure e dove al cui interno abbiamo anche un piccolo manuale di istruzioni dove ci dice gli strumenti che avremmo bisogno per poter montare l'oggetto e da cosa è composto il kit, quindi poche pagine molto riassunte, quindi da questo punto di vista semplice ma efficiente. Andiamo un po' a vedere il contenuto della confezione, abbiamo il braccietto vero e proprio che andrà montato per poter dare lo snodo chiaramente al padone, ora chiaramente a mano vedo che non si muove, forse andrà un po' allentata la vite questa qui centrale, quindi abbiamo il braccietto, la nuova copertura per il braccietto che andrà montata così chiaramente, abbiamo tutta una serie di strumenti per poter fare il montaggio, questo molto utili e non mi aspettavo di trovarli in confezione, quindi abbiamo uno strumento per smontare le plastiche, abbiamo il famoso chiave, la famosa chiave brugola gigante per svitare leggermente questa vite centrale e ammorbidire o meno la possibilità di ruotare il padone e abbiamo anche le ulteriori chiavi a disposizione che ci danno modo di poter fare tutta l'operazione completamente in autonomia senza aver necessità di andare o ad acquistare delle chiavi o usare le proprie chiaramente perché sono chiavi normalissime per cui niente di particolare da questo punto di vista, cioè chi è che non ha una chiave del 10 o un cacciavite a stella, però loro forniscono nel kit comunque tutta l'attrezzatura necessaria per poter fare l'operazione e poi abbiamo l'ulteriore pezzo che andrà a copertura del buco che si forma nel momento in cui rimuoverete la copertura originale e in quest'ultimo pacchettino andiamo un po' a vedere di cosa si tratta, eccolo qua, questo è praticamente la copertura del sensore di temperatura interna della macchina, questo andrà in sostituzione di quello che è l'originale quindi abbiamo sia questo fatto così sia quest'altro fatto in questo modo, mi pare che questo è per Model Y questo dovrebbe essere per Model 3 in più abbiamo questo pezzo di plastica qua che ora così su due piedi non vi so dire dove va messo perché ancora non ho visto tutte le istruzioni da zero, per finire abbiamo due viti che serviranno poi per il montaggio di tutto il braccetto di snodo, questo è il contenuto della confezione quindi abbiamo sia gli strumenti sia quello che è necessario per fare la sostituzione, ora seguitemi quindi andiamo a montare questo bel kit per poi vedere come funziona e se è un acquisto utile ma premetto che io questo kit l'ho voluto prendere in quanto ogni volta che mi fermo a fare una sosta e mi capita di utilizzare YouTube, Netflix e quant'altro ho sempre notato che avrei voluto poter girare lo schermo un pochettino verso il lato conducente soprattutto se sono da solo in macchina per poter avere una visuale migliore e soprattutto con meno riflessi spero che con questo kit riuscirò a risolvere l'esigenza in questione che mi si era appunto verificata più di una volta tra l'altro Model S e Model X montano di default un sistema di rotazione dello schermo quindi sicuramente Tesla stessa si è resa conto che effettivamente può risultare comoda e utile la possibilità di ruotare lo schermo bene, andiamo a montarlo bene, eccoci qui al montaggio nel kit c'era questo polistirolo che utilizzerò poi dopo per metterlo qui sotto il pannino per eccesso di prudenza quando dovrò abbassare lo schermo ed appoggiarcelo per evitare di graffiare ci metto anche questo almeno proprio sono super sicuro che è un bel punto d'appoggio morbido vado a bloccare lo schermo con la funzionalità per quella che utilizziamo per pulirlo quindi screen clean mode in modo tale che non abbia effetto se lo vado a toccare durante l'operazione e incominciamo un pochettino a montare si parte dalla copertura qui sotto c'è una piccola linguetta dove va inserito un cacciavite piatto su cui fare leggermente forza per poter togliere la copertura qui sotto ora chiaramente velocizzerò il video come abbiamo fatto l'altra volta in descrizione trovate la guida ufficiale che ha fatto la handshow per poter montare il kit in questo modo comunque il mio video sarà una specie di traduzione in italiano di quello che vedrete nel montaggio originale per chi non dovesse masticare l'inglese in modo perfetto ma ripeto dalle immagini si capisce chiaramente come fare tutta l'operazione oltre agli attrezzi che danno in dotazione col kit comunque se avete qualcosa di vostro è sicuramente utile da utilizzare come ad esempio il cacciavite piatto che vado a utilizzare adesso per andare a smontare la copertura sotto ok eccola qua la copertura ha al suo interno come vedete il sensore della temperatura interna dell'abitacolo che andrà smontato da questo suo coperchietto originale che abbiamo fatto semplicemente leva per tirarlo giù va sgangiato smontata questa cosa qua che è il sensore che andrà montato poi sul pezzo sostitutivo che avremo in dotazione con i kit nei kit danno questa brugola qua effettivamente con queste in qualche modo riusciamo a svitare se ne avete una un pochino più piccola manuale che ora andrò a prendere farete molto prima questa è proprio di emergenza mettiamola così eccoci qua dovrebbe essere una torx del 25 no questa allora è del 20 vediamo se è giusta quella del 20 esatto è una torx del 20 io ho il kit chiaramente con questo farete sicuramente prima voilà ora sì che si ragiona questo coperchietto chiaramente andrà conservato se vorrete ripristinare la situazione iniziale ora andiamo a svitare due vitoni che ci sono qui sotto che ci danno la possibilità poi di sfilare il padone allora nei kit danno nei kit danno darebbero questa ma con questo dubito che si riesca a fare con questa si fa una gran fatica insomma detto come vuol detto se avete un kit di brugola per poter smontare più velocemente anche qui usate il vostro una bella chiave del 10 andate sotto e smontate le due viti adesso possiamo andare a togliere il pad originale tac e appoggiarlo delicatamente qua sotto ecco a cosa serviva il pannino come vedete abbiamo il cavo del sensore e abbiamo il cavo dati del padone adesso andiamo a smontare questa copertura originale dal padone utilizzando sempre la torx ma non più la 20 che abbiamo preso prima ma andiamo a utilizzare la 25 eccoci qua ora a cosa serve la 25 ok una volta rimosso andiamo a riprenderci le viti sai come è che cascano caschino ok questo lo mettiamo qua questo lo rimuoviamo e andiamo a togliere il connettore qua dal padone una volta rimosso la protezione ci troviamo in questa situazione qui abbiamo questa specie di protezione bianca che va tolta per poter accedere alla clip e poterla staccare regolarmente quindi allargheremo questi dentini qua e poi fare sfileremo questo pezzo di protezione andiamo a gentilmente aprire questo la fa facile nel video ma nella realtà è un po' più complicato abbiamo rimosso la protezione e ora a questo punto abbiamo la possibilità di andare a premere il tastino per poter staccare il connettore nella guida specifica di utilizzare un cacciavite per fare la leva e andare poi a staccare il connettore ok così funziona benissimo a questo punto abbiamo la possibilità di portarci in casa questo e usarlo come tablet oppure gentilmente riporlo qua su in cima che è abbastanza morbido non si graffia e avere a disposizione tutta la postazione libera benissimo questo è il suo connettore originale che andrà archiviato e andrà sostituito con la nuova copertura che andrà posizionata in questo punto qua solo dopo però aver montato il kit questo qua nella guida fa vedere che la prima operazione da fare è rimontare il sensore di temperatura all'interno del nuovo dispositivo nella nuova cover diciamo che abbiamo a disposizione ufficialmente non c'è un verso preciso però da quello che vedo nella guida sembrerebbe che la parte questa qui col dentino vada in corrispondenza della parte questa qui rotonda quindi in questo modo ok dentino parte rotonda almeno dal video così è stato fatto vedere e poi possiamo ricollegare il sensore tac ok a questo punto possiamo andare a inserire il nuovo braccetto ok e poi andarlo a fissare con le viti originali che abbiamo tolto a questo punto possiamo andare a utilizzare lo strumento che ci danno loro in dotazione per andare ad aggiustare la rigidità del supporto mi raccomando che tale rigidità non deve essere vediamo un po regolata troppo morbida altrimenti poi il padrone sarà troppo morbido da ruotare ma nemmeno troppo duro che forzi troppo anche perché qua dovete sentirlo abbastanza rigido perché poi col padrone faremo una leva totalmente diversa quindi direi che così è sufficientemente rigido però vediamo un po proviamo così poi eventualmente se le regolazioni non dovessero andarvi bene farete gli aggiustamenti del caso prossimo passaggio fate passare i due cavetti e montate il nuovo supporto ok una volta che entrambi sono passati regolarmente andremo a fissare il supporto ok 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 benone in modo robusto una volta fissato in modo perfetto questo nuovo supporto riprendiamo il nostro bel padrone lo rinseriamo lo rimettiamo qua andiamo a prendere il nuovo supporto che c'è dato in andando a riguardare il video chiaramente mi sono accorto che si è interrotta la registrazione così all'improvviso abbiamo semplicemente rimontato il display andandolo a montare all'interno del supporto che avevamo montato in precedenza ricollegando il cavetto rimettendo poi il sensore di temperatura qui sotto andando a mettere la slitta cioè posizionato e poi incastrato e ora eccoci con il nostro bel display ruotante come vedete con un'ottima angolazione sia per il passeggero che per il guidatore ma anche in alto e in basso fino ad avere più o meno lo schermo totalmente dritto questo aiuta sicuramente a poter regolare lo schermo come meglio si crede io in questa posizione tutta arretrata quando magari mi guardo un bel una bella serie tv su netflix avere la possibilità di ruotarmi lo schermo in questo modo verso di me che mi toglie il riflesso del sedile qui accanto e quant'altro lo apprezzo moltissimo e è il motivo per cui ho deciso di fare questo upgrade alla macchina ora andiamo a vedere anche da un'inquadratura centrale più o meno da come sono messo io come riuscirete a vedere lo schermo ed eccoci alla nostra inquadratura classica di quando facciamo i nostri test drive questa era la disposizione originale del padone e ora noi possiamo ruotarlo leggermente verso il pilota in modo tale da avere un'inquadratura ancora più personale e diretta verso il guidatore se siamo in assenza il guidatore e il passeggero volesse guardarsi qualcosa abbiamo la facoltà di girarlo anche verso quest'ultimo in questo caso io mi guardo un bel video fatto da me medesimo e in questo modo con questa possibilità ho la facoltà di godermelo molto meglio senza riflessi come vedete ora chiaramente non c'è tantissimo sole però la luce c'è comunque ed è direzionato perfettamente verso la mia persona e quindi non ho quella sensazione di voler girare un po la testa verso il padone ma posso stare tranquillamente comodo e rilassato nella mia personale posizione quindi la possibilità di ruotarlo verso di me è assolutamente comodissima perché mi permette di avere lo schermo proprio ben ruotato e ben direzionato verso di me bene spero che questo video vi sia piaciuto che vi abbia chiarito un po le idee sul device se può essere di vostro utilizzo può essere comodo anche per voi la spesa è relativamente bassa e la comodità sicuramente può essere alta ripeto su model x e model s è di default questa possibilità di poter ruotare lo schermo elettronicamente in quel caso quindi tutto sommato mi è sembrato un upgrade abbastanza sensato e intelligente vi invito quindi se volete comprare lo stesso device a utilizzare anche il mio sconto in modo che un 15 per cento in meno sicuramente farà farà comodo e con questo vi saluto vi aspetto alla prossima puntata e se non siete iscritti fatelo immediatamente ciao